La diffusione del covid-19 non accenna a rallentare nel Lazio. La regione ha predisposto una rete con la quale fare fronte all'aumento dei casi. Ne fa parte anche l'ospedale di Alatri che verrà dotato di sei posti di terapia intensiva e sub-intensiva. Nell'ambito dello stesso progetto in queste ore sono stati attivati allo Spallanzani altri cinque posti di terapia intensiva. Al Sant'Andrea mercoledì saranno attivati dieci posti di malattie infettive. Il 13 marzo saranno attivati dieci posti di pneumologia. Al Campus Biomedico è stato attivato il laboratorio e sono stati effettuati i primi cento tamponi. Al Policlinico Gemelli da lunedì saranno pronti ventuno posti di terapia intensiva e ventotto posti di ricovero. A Tor Vergata da giovedì otto posti in più. Al San Camillo venerdì apre il reparto di sorveglianza covid-19. Oggi ad Alatri è proseguita la riconversione clinica dei padiglioni che un tempo erano la chirurgia generale e la medicina. Diventeranno posti di terapia intensiva e terapia sub-intensiva nei quali salvare la vita ai pazienti affetti da coronavirus e che devono essere aiutati a respirare. L'ospedale San Benedetto viene potenziato con un totale di sei posti di terapia intensiva. Inoltre vengono attivati altri 29 posti letto di medicina interna che sommati a quelli esistenti raggiunge un numero totale di 58 posti letto. Per il periodo dell'emergenza viene raddoppiata la guardia pediatrica. Un nuovo percorso viene dedicato ai bambini con febbre, difficoltà respiratorie e sintomi influenzali. Verrà affiancato al tradizionale percorso per i bambini con tutte le altre patologie. L'ASL ha deciso di concentrare l'assistenza sui bambini e lo spaziani, per questo ha unificato gli attuali due reparti, portando nel capoluogo anche la pediatria che oggi è ad Alatri. In giornata l'ASL ha pubblicato il bando per l'assunzione di 12 medici. È pronta ad assumere con effetto immediato, a tempo pieno e con contratto per un anno, circa 3 medici per malattie infettive, 4 anestesisti, rianimatori, 3 pediatri, 2 medici per igiene, epidemiologia e sanità pubblica. Pochi giorni fa è stata decisa l'assunzione di 57 infermieri e è in corso lo smaltimento delle formalità.